Ciao, sono Sofia. Benvenuti alla Zagos Academy. Se apprezzi i nostri contenuti ti invito ad iscriverti al canale e lasciare un like. Vega, iho. Vega, sensibilità alle variazioni della volatilità. Il Vega misura la variazione del prezzo di un'opzione rispetto alle variazioni della volatilità del bene sottostante. Un alto Vega indica che l'opzione sarà sensibile alle variazioni della volatilità. Le opzioni tendono ad aumentare di valore quando la volatilità aumenta e viceversa. Rho, sensibilità ai cambiamenti dei tassi di interesse, cenni. Il Rho misura la variazione del prezzo di un'opzione rispetto ai cambiamenti dei tassi di interesse. Tuttavia, la sensibilità del prezzo delle opzioni ai tassi di interesse, soprattutto per opzioni a breve termine, è generalmente meno significativa rispetto ad altre greche, come Delta e Vega. In sintesi, le greche sono misure utilizzate dagli investitori e dagli operatori di opzioni per comprendere come i prezzi delle opzioni reagiranno alle variazioni del prezzo del bene sottostante, alla volatilità al passare del tempo e ai cambiamenti dei tassi di interesse. Queste misure consentono di valutare il rischio e di prendere decisioni informate nelle strategie di trading e gestione del rischio legate alle opzioni. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al canale. Se vuoi seguire i nostri corsi sulle opzioni tenuti da Paolo Belvederesi e Massimo Foglia, scrivici alla mail info a zagos.com. Per maggiori informazioni, visita il sito www.zagosonline.com oppure se vuoi ricevere i nostri servizi in prova gratuita per un mese, scrivi a info at zagos.com. Zagos offre solo servizi informativi ed analitici sui mercati finanziari, non esercita in alcuna forma l'attività di consulenza personalizzata in materia di investimenti.